Eh, se diamo queste informazioni qua lo scoprono subito, guarda un attimo la scheda insieme a me. Liceo artistico, grafica. Guarda, significa che io dovrei leggere, non ho gli occhiali, sono sul tavolo. Suggerisco. Bravo. Il nome lo ricordi? Il nome sì. Allora diciamolo insieme. Miss Sorrisi di Chiavari 2000 è Tania Carina Marquez. Marquez, Tania. Miss Sorrisi 1000, no, che 1000, 2000. 2000, e la giuria ha eletto Miss Sorrisi 2000. È svenuta dietro le quinte. Tania Carina Marquez. È andata via. Non c'è, la rieleggiamo. Dov'è? Cosa è successo? Beh, andiamo a vedere cosa succede nel backstage. Eccola, giro di là, giro di là. Miss Sorrisi 2000. Miss Sorrisi 2000, Tania Marquez. Fotografi, state buoni. Giro, gira il mondo. Prego. Tutto il giro completo, grazie di là. Perfetto. Tania Marquez, Miss Sorrisi 2000. La fascia al sindaco di Santa Margherita Ligure, Angelo Bottino. Il sorriso d'oro sarà consegnato dall'ingegnere Roberto Levaggio, assessore regionale all'ambiente. Mentre i fiori, quest'anno tutti femminili, da Maria Teresa De Martini. Venga qui sindaco, non si apparti. Sì, sì. Beh, al fine di completare questo bel quadretto, credo che sia giusto invitare qui la Miss uscente. Miss Sorrisi di Chiavari, 1999. Eccola, Elisabetta Costa. Elisabetta Costa che è venuta a trovarci, grazie Elisabetta. Grazie a te. Accomodati pure vicino alle ragazze. Perfetto. Questi premi sono tutti per la Miss Sorrisi 2000. Naturalmente ci sono anche per le Miss Chiavari e Miss De Filla. Per le ragazze che purtroppo non sono potute essere elette questa sera. Vabbè, non sono potute essere elette. Comunque ci sono premi. Un'altra volta lo dico in italiano. Premi per tutti, è bellissimo. Un'altra volta lo dico in italiano. Questa sera non ci sono riuscita. Allora, Marco, cosa facciamo ancora? Beh, siamo quasi arrivati al termine, credo. Siamo ai ringraziamenti finali. Marisa, a te naturalmente ringraziare la nostra giuria, prego. Allora, io ringrazio la nostra giuria. Ve la faccio vedere ancora una volta perché mi fa piacere metà Elisabetta. Allora, ringrazio Davide.